L'e-commerce ha cambiato le nostre vite. Acquistare online è molto comodo e conveniente, tanto che non ne possiamo più fare a meno. Tuttavia, nella consegna non sempre tutto filaliscio come dovrebbe. Nessuno ha il tempo e la possibilità di restare a casa ad aspettare il corriere, ma se lascia il pacco davanti alla porta, rischi che venga danneggiato o addirittura rubato. Mentre scegliendo la consegna in ufficio, addio privacy! Per non parlare dei resi, che sono una gran perdita di tempo. Dimentica le scomodità e goditi solo i vantaggi della consegna a domicilio. WIDL, il tuo smart locker personale. Lo installi davanti a casa e puoi spedire e ricevere 24 ore su 24. Addio pacchi abbandonati o consegne sbagliate. La tua merce sarà al sicuro fino al ritiro. Per garantirti la sicurezza, viene filmata la consegna e grazie al controllo del QR code e del peso, saprai che il pacco è proprio il tuo. Puoi gestire tutto tramite app e se c'è un problema, il corriere può contattarti. Puoi farti consegnare la spesa, ma non sei a casa? Nessun problema! Potrai aggiungere al tuo WIDL l'accessorio vano refrigerato. E se vorrai avere consegne ultra rapide, WIDL è pronto per i droni! Oltre ad essere pratico e sicuro, WIDL rispetta l'ambiente, perché è alimentato da energia solare. È semplice da installare, sia a pavimento che a peso, e si integra con lo stile della tua casa, perché puoi personalizzarlo come vuoi. Configuralo e prova la nostra realtà aumentata. Entra con noi nel futuro delle consegne a domicilio. WIDL, il tuo smart locker personale. Grazie a tutti!